Che si tratti di muoversi a piedi o in bicicletta, bambini e adulti in Italia sono piuttosto pigri. La percentuale di bambini che per andare a scuola lo fa camminando sulle due ruote è infatti il 27%, mentre il 62% viene portato in auto e il 10% in scuola bus. Gli adulti che invece vanno in bicicletta per gli spostamenti abituali sono solo l'11% e soltanto il 40% lo fa a piedi. A rilevarlo sono i dati delle sorveglianze della popolazione Occhio alla Salute e Passi pubblicati sul sito epicentro dell'Istituto Superiore di Sanità. Nel nostro paese con l'Irlanda, Portogallo e San Marino è primi posti per l'utilizzo della macchina nel tragitto casa-scuola. Come in molti casi, anche in questo ci sono differenze a livello territoriale. Secondo la quinta rilevazione di Occhio alla Salute, fatta nel 2016, al nord i bambini che vanno a piedi o in bici è maggiore 30%. che al centro 24% e al sud 25%. Si va dal minimo del Molise 15,5% al massimo della provincia autonoma di Bolzano dove il 60,7% va in bici, seguita da Liguria 37% e Lombardia 31,8%. Su questa abitudine sembrano influire cittadinanza e titolo di studio dei genitori. Se entrambi sono italiani, i figli che vanno a scuola a piedi o in bicicletta sono il 23%. La quota sale al 32% se i genitori sono di cittadinanza mista e addirittura al 53% se entrambi sono stranieri. Se madre e padre hanno un titolo di studio basso, manderanno di più i figli a scuola o in bici, mentre lo fanno di meno se uno dei due ha il diploma.